Gli anziani usano gli occhiali, quasi tutti, ma vedono lontano. Come mai vedono lontano? Perché hanno vissuto tanti anni e hanno tante cose da insegnare. Ad esempio, quanto è brutta la guerra. Io, tanto tempo fa, l'ho imparato proprio da mio nonno, che aveva vissuto il 14 al Piave, la prima guerra mondiale, e che con i suoi racconti mi ha fatto capire che la guerra è una cosa orribile, non fare mai. Anche mi ha insegnato una bella canzone che ancora ricordo. Volete che vi la dica? Sì. Pensate bene, questo cantavano i soldati al Piave. Il general Cadorna scrisse la regina, si vuol guardare triste che la guarda in cartolina. È bello, eh? Cantavano i soldati. Grazie. Grazie.